Aggiornata in tempo reale l'app per il controllo del Green Pass rafforzato, ha trovato pronti gli esercenti del capoluogo che sono felici di poter essere aperti rispetto all'anno scorso, anche se con delle restrizioni. Noi controlliamo il Green Pass ancora prima che le persone si siedono, poi adesso con questa cosa nuova dovremmo stare attenti anche per quanto riguarda il tampone perché non ci si potrà accomodare soltanto con il tampone ma solo con il Green Pass. Chi sa di non avere il Green Pass la maggior parte delle volte sono loro i primi a dirci che si accomodano fuori in modo da non mettere in difficoltà nemmeno noi, però adesso anche con il freddo diciamo che fuori è proprio fuori questione perché ormai non ci si siede più nessuno. L'aggiornamento dell'app è già avvenuto già da ieri e niente ci saranno più controlli o perlomeno gli stessi però con l'applicazione aggiornata che appunto controllerà solo i Green Pass validi, saranno quelli solo per il vaccino e non più quelli con il tampone. Speriamo di non subire un calo insomma di clientela dovuto a questa problematica, allo stesso modo però l'anno scorso di questo periodo eravamo chiusi, le feste non le abbiamo potute festeggiare e invece quest'anno insomma probabilmente questo ci dà la speranza di poter lavorare quantomeno, anche se con un regime un po' più ridotto però di poter stare aperti e poter lavorare. Qualcuno prova ad aggirare il controllo e qualcuno rinuncia ma i ristoratori seguono le norme nella speranza che non si incorra in nuove chiusure. Soprattutto con l'arrivo del freddo è stata sì comunque di persone che nonostante comunque non avessero il Green Pass chiedevano la possibilità di mangiare all'interno se c'era comunque la possibilità noi sia per rispetto nostro sia per rispetto di chi viene a mangiare lo chiediamo sempre a tutti e quindi io insomma non li facevo accomodare, non li facevo sedere. Quindi dobbiamo stare attenti a tutto e stare attenti soprattutto a chi magari ci dice prima che ha il Green Pass senza pensare che noi effettivamente li controlliamo quindi diciamo che dobbiamo stare ancora più attenti di prima. Intanto controlli a terra, a campione, alle partenze degli autobus da stamattina in tutta la regione nelle stazioni più popolose. Penso che un maggiore controllo sia per il bene nostro e meglio penso. Certo più controllo anche noi dovremmo stare più attenti da soli penso.